Ho finito questa taglia con affetto e simpatia e soprattutto gratitudine per il giorno che hai fatto per tutti noi e per il Paese. Poi io personalmente come dipendente da 37 anni in questo comune, chiedendo questa prima domanda. Delegato alla lettura della lettera del sindaco, ciao sindaco, ci dispiace lasciarti andare soprattutto perché con te abbiamo lavorato comodamente, prima sedia di legno, ora oltrone e sofà, ad ognuno un divano per il riposino, mattutino e pomeridiano, conoscendo il nostro attaccamento al lavoro, con senso di responsabilità e l'abnegazione che ci contraddistingue. Hai fatto in modo che desiderassimo restare sempre di più in ufficio, siccome ci lasci in estate potresti installarci una piscina sul palazzo? in modo da sentirci veramente in un municipio-village. Un abbraccio affettuoso ed un grazie di cuore. Convolto il nazionale miglior sindaco, primo classificato. Non è un pensionamento, però ci dovevo pensare io e non ci ho pensato. va bene, i dolci li portiamo. Ah, aspetta! Che è tutto, che è tutto! Aspetta un'altra! Ok, tra il bagno è fatto. Ah, sì! Ah! Che è tutto, che è tutto! Siamo aperto! Ciao! 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 Ecco! Ciao! Ciao! Grazie. Grazie.